Sono Luigi Biasetto, mi occupo di sperimentare quello che è la pasticceria di oggi e soprattutto quella di domani. La mia idea di pasticceria è molto attenta a quello che è il rispetto della tradizione da una parte, ma deve corrispondere a quello che è l'aspettativa del cliente oggi. Dobbiamo dare la massima qualità e avere la capacità anche di accogliere nel modo dovuto e di mettere le persone al proprio agio. Per arrivare a un certo livello ci sono gli ingredienti del successo. Primo in assoluto l'umiltà, il secondo è la capacità di fare squadre, quindi di entrare all'interno di un gruppo e di essere copartecipe di quello che avviene all'interno del gruppo. Sperimentare sempre, non bisogna mai fermarsi. Avere tenacia, non mollare mai. Considerare il primo ostacolo come un'opportunità di aver già compreso qualcosa, ma di poter e di dover in qualche modo superare. In questa lezione queste 16 persone stanno imparando quello che significa fare pasticceria oggi, considerando che oggi la tecnologia ha fortemente rivoluzionato tutto questo, non solo il fatto di tecniche e di processi produttivi, ma soprattutto in termini anche di comunicazione. Oggi fare il pasticcere significa sapere anche comunicare. Si instaura un dialogo che senza ombra di dubbio sarà proficuo a tutti e quindi è un modo di fare pasticceria che appartiene al futuro.